Il 25 novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle donne La donna non si tocca neanche con un fiore La violenza sulle donne distrugge la libertà, la dignità, la vita stessa delle donne There is one universal truth Violence against women is never excusable Lo schiaffo di oggi può diventare una violenza ancora più grave domani La violenza è una mancanza di vocabolario No violenza La violenza non risolve mai i conflitti e nemmeno diminuisce le loro drammatiche conseguenze La violenza non si maltratta, si rispetta La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci Solo gli uomini deboli usano la violenza per sentirsi forti Non alla violenza Non alla violenza Non alla violenza Non vi mettete paura, facitevi sentire La violenza è un reato Aiutare un dovere morale Non restare in silenzio Fatti sentire La violenza è un reato La violenza è un reato La violenza è un reato La violenza è un reato